direi che possiamo pullare allora a me ovviamente interessa ignis perché queen sinceramente non me ne frega nulla quindi i ticket li butterò qui da ignis cominciamo dal free ticket che tra l'altro io non so se c'ho i bt token forse io non so se c'ho i bt token o attenzione però attenzione però ma mi sa che c'è il sondaggino da fare qua c'è il sondaggino 65k di punte ignis così all'improvviso va bene ok a nomi che laguna non ha votato attenzione laguna non ha votato ciao ciao savio non ha votato laguna attenzione non ha votato quindi è tutto possibile quindi se esce queen qua è un problema per chi per chi ha messo quei punti su ignis a me a me dispiace tantissimo mi dispiace veramente tantissimo quando succedono queste cose mi mi duele mi duele il corazon mi duele mi duele il corazon mi duele mi duele il corazon secondo ticket corba azzurra 48 48 48 con laguna bannato easy la super super easy bannato nel frattempo abbiamo il riscatto della sub per per noa che devo pagare di tasca mia ovviamente perché ho dato questa possibilità e quindi è giusto far riscattare a chi ha questa possibilità si lo so che mi hai scippato i soldi paypal tranquillo lo leggo lo vedo tranquillo lo vedo allora ultimo ticket viola niente orb dorata ah è stato no allora scommettere al contrario per avere i punti necessari per farsi regalare la sub e io stronzo che gliela pago tra l'altro c'è vedete che cosa succede c'è io pago praticamente al contrario c'è è praticamente c'è pago e perdo da tutte le direzioni allora io intanto volevo vedere se avevo i bt tokens perché hanno 45 ne ho 45 e posso vendere delle copie di bt perché io ho le copie della bt se non mi ricordo male comunque abbiamo sti 23 ticket vediamo che succede con questi 23 ticket della speranza è da tanto che effettivamente non mi esce una bt dei ticket magari chissà magari magari adesso dicendolo ma vero troppo troppo scontato però da orb azzurra derivano grandi responsabilità no forse forse mi sbagliato va bene allora io vado a 550 così con i 50 ticket che prendiamo dall'evento arriva a 600 più 200 in totale 800 così ritorno praticamente a 800 ticket e niente ci provo col metodo skip ma non funziona vediamo che cosa succede allora potrei valutare di utilizzare i token se effettivamente la fr di ignis mi fa il favore di uscire non lo so sono sono un po indeciso perché tanto il nuovo personaggio anche volendo andrei di gemme comunque quindi e questa volta c'è e questa volta c'è e questa volta c'è e questa volta c'è ignis c'è ignis c'è la cosa che mi dispiace è che purtroppo i punti di queen erano pochi quindi riceverete poca roba riceverete poca roba però ignis c'è prenderemo i token non lo so 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 non lo so